Buona giornata a tutti voi, un buon sabato, oggi è il 22 di agosto, siamo quasi alla fine di questo mese estivo, una fine settimana che sarà come vedremo tra poco, comunque caratterizzato dal bel tempo. Allora andiamo con ordine, vediamo subito il santo del giorno, oggi la chiesa ricorda la beata vergine Maria Regina con il titolo di regina, il sole è sorto alle 6.22, tramonterà 5 minuti dopo le 8, allora il cielo sarà sereno, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, secondo il bollettino della protezione civile delle Marche e soprattutto su tutta la costa, oggi per i turisti che sono dalle nostre parti e che affollano le spiagge della costa adriatica marchigiana, così come per coloro che invece ci vivono nelle Marche e quindi hanno la fortuna di avere il mare a due passi, ebbene oggi avremo una giornata di sole, così come avremo una giornata di sole anche nella giornata di domani, anche se il pomeriggio, per chi invece deciderà di andare in montagna, sui Sibillini ci sarà un po' di pioggia. Lunedì invece cambia il tempo, vedete anche dalle nostre parti, la settimana prossima inizierà con rovesci temporali sparsi per estendersi poi a tutto il territorio dal pomeriggio, localmente i fenomeni risulteranno anche di forte intensità, in particolare nel settore settentrionale, quindi nella provincia pesarese. Ancora residui fenomeni di instabilità per martedì 25, seguiti poi dalla graduale ripresa dell'alta pressione con giornate stabili e soleggiate. Dunque non si può assolutamente parlare di fine del lunedì, fine della stagione estiva, quindi Tommy continua pure, buongiorno, a stare lì perché lunedì ci sarà una piccola pausa ma poi bisognerà tornare insomma a essere belli concentrati perché l'estate proseguirà. Intanto oggi guarda che bella giornata. Assolutamente dai. Come andrà oggi? Giornata di sole e bandiera bianca? Assolutamente bandiera bianca Marco, oggi appena arrivato ho visto il mare esattamente come ieri, quindi ci riaspettiamo un bel regalo per i turisti e per i fanesi perché ieri è stata veramente una giornata splendida e oggi ci sono tutte le carte in regola per ripeterla insomma. Allora questa è la fotografia della giornata di sole, ma una curiosità, i bagnini, tu inizia alle 7 adesso, ma la colazione la fai prima, la fai durante la mattinata, come funziona? Perché anche tu, insomma, tu in acqua ci vai o no? Durante la mattinata dai. In acqua ci vai o no? Sì, beh, quando c'è bisogno di fare qualche emergenza. Sì, assolutamente. Soccorso, sì, però un bagno te lo fai ogni tanto. Beh, diciamo che adesso approfitto di queste prime ore della mattinata prima di cominciare il turno operativo per testare subito. Bene, allora buona giornata, buon lavoro e chi pensa che, no? Magari Tommy ha la fortuna di stare al mare tutto il giorno, cioè chi pensa che è fortunato, beh sì, fai un lavoro fortunato, ma insomma è sempre lavoro, quindi eh? È dura, è dura lo stesso, è dura lo stesso. Bene, grazie, buona giornata. È spettacolare, ma è dura. Certo. Allora, Corriere Adriatico, il titolo d'apertura di oggi, contagiati sempre più giovani, giù l'età media, 5 dei 6 nuovi positivi, sono ragazzi tra i 19 e i 20 anni, 3 erano rientrati dalla Croazia, l'area vasta nei prossimi giorni ha in programma altri 500 tamponi, intanto la notizia che nel frattempo vi abbiamo continuato a dare in questi giorni è che è stato estubato il papà di 60 anni ricoverato in terapia intensiva. Centro pagina, la terza corsia sud in bocca al lupo, come dire, non la vedrete mai, riavvio del progetto rifiutato nel 2007, poi regionali e comunali, ecco tutti i candidati, oggi il Corriere Adriatico pubblica delle pagine intere con i nomi di tutti coloro che partecipano a questa tornata elettorale, sia per le regionali ma anche per le comunali laddove si vota per eleggere il nuovo sindaco. A Pesaro il sindaco non molla, grazie a Galdenzi, quindi ringrazia il comandante dimissionario, ma continua ad affermare Ricci che quello che è successo a Ferragosto sono stati fatti gravissimi, il fatto degli assembramenti e non controlli da parte della polizia. Poi la questione, la vicenda dello specchietto, le truffe scoperte grazie anche al Targa System e a Pesaro sempre scuola partono 30 mini cantieri per aule e locali. Il MIT, il Ministero per delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha programmato per il 2020 diversi interventi sulle strade, le strade della provincia di Pesaro e Urbino, il dirigente primavera dice aspettiamo i risultati dell'indagine strutturale che riguarda 16 punti. Poi inaugurate le luminarie in memoria di Mirko. Andiamo adesso sulla pagina invece del resto del Carlino, Basta Follie, Weekend Blindato, questo è il titolo della fotonotizia di oggi. La Prefettura annuncia un giro di vite per evitare il caos avvenuto a Ferragosto, poi rientri, il virus non molla, altri sei casi, positivi tre ragazzi di Fano e due di Pesaro, tornati da Grecia e Croazia, contagiato anche il padre di uno di loro. Walter Chiari si esibiva lì vicino all'improvviso le raffiche di Mitra. Il generale Angioni, questa mattina sulla pagina di Fano, rievoca la tragedia di Filippo Montesi, marofanese morto in Libano. Sotto invece porta incollata in centro storico a Pesaro, caccia ai vandali con i video la rabbia di un ristoratore di via Passeri, c'è che ostacola il rilancio della strada, cioè di via Passeri. Poi in cassaforte le moto storiche di Morbidelli, c'è questo accordo, le ha comprate l'Automobile Club Italiano, nascerà un nuovo museo in via San Francesco. E poi ancora anche qui sul Carlino continua la truffa dello specchietto, trovato anche il sasso e poi ritiro WL, coach, repegia, entusiasta di Filloi, le sue qualità ci aiuteranno. E adesso andiamo nelle pagine interna a vedere quelle che sono le notizie più importanti selezionate per voi in questa rassegna stampa. Intanto il Covid-19, allora facciamo un po' di, facciamo il punto della situazione su quelli che sono i nuovi positivi, quindi come è la situazione nelle Marche, poi guarderemo anche l'aspetto della scuola che è quella che preoccupa maggiormente, l'aspetto che preoccupa maggiormente studenti ma anche genitori e soprattutto vedremo insegnanti. Intanto nelle Marche sono sei i nuovi positivi, cinque sono ragazzi tra i 19 e i 20 anni, dunque si abbassa drasticamente l'età media. A Marche Nord è stato estubato il papà di 60 anni che era ricoverato in terapia intensiva. Mentre fine dell'incubo anche a Fratterosa, finisce l'incubo Covid a Fratterosa, sono risultati infatti negativi due tamponi effettuati su residenti del comune processati dal servizio sanitario per il monitoraggio del focolaio di Covid che si era sviluppato nella frazione di Torre San Marco. Questo perché c'era presumibilmente una persona che arrivava dalla Francia, che è un cittadino francese, che era arrivato a Fratterosa in visita presso la madre, ospite di altri parenti che abitano nel borgo e nel corso del soggiorno erano apparsi sintomi riferibili al Covid. Di qui si era parlato appunto di questo focolaio a Fratterosa, ma come il sindaco Valtroni poi che ha seguito e ha informato i cittadini, ha subito rassicurato tutti e adesso lo ha fatto anche in un video social. Dunque, mentre per quanto riguarda le Marche, allora 11 dei 17 positivi hanno contratto il virus all'estero e l'hanno scoperto quando si sono sottoposti al tampone obbligatorio per chi torna dai quattro Paesi europei considerati ad alto rischio, Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Predomina sul territorio il contagio dunque sociale, che si riscontra sempre più fra contatti stretti di giovani in comitiva e fra adulti di rientro dalle mete estere, attenzionate o semplicemente per aver partecipato a rimpatriate e serate di festa. Se da un punto di vista clinico si tratta soprattutto di asintomatici o di sintomi più contenuti, dall'altro preoccupa questa diffusione così capillare. Intanto, e qui attenzione, se avete il cellulare a portata di mano magari fate la fotografia al vostro televisore perché sto per darvi due numeri di telefono oppure comprate il giornale, dal 24 agosto l'Asur metterà a disposizione dell'agente, delle persone due numeri di telefono con due operatori per informazioni chiarimenti, i numeri li vedete lì, intanto è stato estubato, come abbiamo detto, il paziente ricoverato al San Salvatore, le sue condizioni sono discrete, ha detto Michele Tempesta, il primario dell'unità operativa, non è più intubato, ha ripreso gli scambi respiratori e contiamo di trasferirlo nei prossimi giorni in un reparto di degenza normale per il decorso post-virus. Intanto, nessun caso, scrive Letizia Francesconi questa mattina sul Corriere Adriatico, nessun caso ad oggi è paragonabile a quanto abbiamo conosciuto nei mesi più cruente dell'emergenza nel Presidio Marche Nord e la situazione resta ampiamente sotto controllo. Questo anche perché i casi positivi vengono intercettati in anticipo, con percorsi a sé stanti e le terapie sono ormai standardizzate. C'è anche da dire, e qui c'è un giro di vite, ne parla il Corriere Adriatico questa mattina, un giro di vite sulla Movida, la cosiddetta Movida, le feste, i locali dove tanti giovani si assemblano per bere qualcosa, fare due chiacchiere, eccetera, eccetera, nel fine settimana annunciato dalla Prefettura. Dunque, mascherine obbligatorie, lo ricordiamo dalle 18 del pomeriggio alle 6 del mattino, è stretta dunque sui controlli del fine settimana. Quindi questo in considerazione della perdurante necessità di scongiurare il rischio di una possibile recrudescenza dell'epidemia, si legge nel comunicato emesso al termine dell'incontro, che c'è stato appunto in Prefettura, ed è stata ribadita l'esigenza che in tutti i luoghi e presso le aree del territorio suscettibili di favorire assembramenti di persone, sia assicurata idonea attività di prevenzione, di vigilanza e monitoraggio sulle condotte non conformi alle prescrizioni in materia. Insomma, bisogna tenere la mascherina, bisogna stare distanziati, lo diciamo come un mantra, ormai lo diciamo continuamente, poi però, a quanto pare, più che questi giovani, che certamente devono stare al loro posto, capire che devono stare distanziati e con le mascherine, pare di capire che questo benedetto coronavirus ce lo stiamo beatamente portando dall'estero, quindi viene più che puntare il dito sui nostri giovani che restano a casa, quindi che preferiscono stare qui in Italia e quindi sotto casa, senza puntare il dito contro nessuno, ma verrebbe insomma da dire, era proprio necessario quest'anno, così difficile, con un mondo alle prese, con un coronavirus, con una pandemia del genere, fare i fighi, andare all'estero, in Croazia, a farsi le foto per Instagram? Insomma, si poteva evitare. Poi dopo che tutti gli altri paesi non abbiano in modo trasparente informato che lì da loro c'erano situazioni abbastanza complicate dal punto di vista del virus e magari hanno fatto finta di niente per non compromettere il settore turistico, questo è un altro paio di maniche e quindi magari uno pensava di andare in Croazia e di andare in un posto tranquillo, invece tranquillo non era per niente. Insomma, come vedete le responsabilità stanno un po' da tutte le parti, però comunque l'idea di rimanere a casa, di fare un piccolo sacrificio quest'anno e di risparmiare magari due soldini non era sbagliato, considerato appunto che ormai i contagi, vedete anche il resto del carino ne parla, arrivano tutti da fuori. Infatti sono sei le persone positive, ma cinque sono turisti, quindi persone che sono andate fuori, ventenni, ventenni che probabilmente sfiaccati da una vita di lavoro, che non avevano bisogno assolutamente di fare qualche settimana o una settimana di vacanza, a vent'anni, certamente, come puoi dire di no a dei ventenni da andare tranquillamente e beatamente all'estero. E così va il mondo. Tre di Fano, due di Pesaro, rientrati da Grecia e Croazia, contagiato anche il padre di uno dei fanesi, in quarantena 623 persone. Abbiamo detto dunque cinque di loro, tutti da compresa tra i 19 e 20 anni, hanno scoperto di avere il coronavirus a rientro in Italia quando si sono sottoposti al tampone, divenuto obbligatorio. E qui diremmo meno male che è divenuto obbligatorio, perché se non fosse così, questi qui avrebbero infettato, visto che sono tutti asintomatici, mezzo mondo di nuovo. E allora questa è un po' la situazione e questo è quello che ci ritroveremo noi tra qualche settimana quando riprenderà la scuola. Quando riprenderà la scuola sono problemi. E quindi gli insegnanti hanno paura, dicono ci sono troppi rischi, dietro la cattedra così noi non ci torniamo, anche perché gli insegnanti hanno una certa età, nella maggior parte dei casi i ragazzi magari se la cavano meglio, ma insomma cresce il malumore in tutte le scuole italiane. E la Ministra Zolina accusa i sindacati e dice c'è chi vuole sabotare la ripresa delle elezioni. La Ministra Zolina, 37 anni, esponente dei 5 Stelle che vedete in questa fotografia. Ma attenzione, quali sono le linee guida? A parte che ancora di definito non c'è granché, quindi un po' si va a tentoni, a spanne, non si capisce bene che cosa succederà. Però, però, se c'è un positivo in classe la scuola per esempio non dovrebbe chiudere, qui usiamo il condizionale. Non basta infatti un solo alunno oppure un insegnante positivo per chiudere la scuola, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Se un alunno, un insegnante, un bidello insomma risulterà positivo, sarà il Dipartimento Distrettuale della Salute valutare se prescrivere la quarantena a tutta la classe oppure a tutti gli eventuali operatori scolastici esposti. La chiusura di una scuola o parte della stessa sarà valutata in base al numero dei casi confermati o di eventuali cluster, quindi il livello di circolazione del virus all'interno della scuola. È previsto poi l'invio di unità mobili per le esecuzioni di test diagnostici nella scuola e ci dovrà essere uno spazio ad hoc per isolare la persona positiva o l'allievo in attesa dell'arico dei genitori. Ecco, questa sicuramente è la cosa più drammatica che ci sta da una parte l'isolamento per carità, la precauzione, la prevenzione, tutto quello che mi pare. Però ecco, speriamo che questo mettere, individuare una stanza, magari con tanto di cartello all'esterno, stanza non so, dove il poveretto che potrebbe avere sei, sette anni, quindi un bambino che viene prelevato dalla classe, messo dentro questa stanza in isolamento. Insomma, bisogna pensare anche alla psicologia di queste persone. Io spero che poi tutti facciano bene la propria parte perché altrimenti diventa traumatico una cosa di questo genere. Ma comunque, andiamo avanti nella lettura di questo articolo, in attesa dell'arrivo dei genitori che allerteranno quindi il pediatra o il medico di base. Se il tampone sarà positivo potrà scattare la quarantena per chi rientra nella definizione di contatto stretto. Ovviamente la scuola in ogni caso dovrà fare una sanificazione straordinaria. La prima cosa da fare è identificare un referente scolastico e formarlo e sarà lui a tenere i contatti con l'ASL. L'istituto dovrà tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e personali di classi diverse e richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura e segnalare eventuali assenze riconducibili al Covid-19. Ma velocemente andiamo a vedere anche questi piccoli flash, questo decalogo. Allora, intanto la prevenzione. Gli alunni che hanno dei sintomi, secondo le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, dicono che se un alunno manifesta sintomi Covid a scuola sarà isolato e assistito in un'area apposita. I genitori dovranno riportarlo a casa nel più breve tempo possibile e avvisare medico o pediatra di famiglia. Speriamo che non suoni la sirena appena viene trovato un positivo e si accendano le luci rosse lampeggianti in tutte le classi. Mi viene in mente un po' i Simpson, queste cose un po' così folli. Ma comunque isolamento, compagni e docenti sotto la lente, se l'alunno sarà positivo al test, il Dipartimento di Prevenzione deciderà se mettere in quarantena compagni di classe, insegnanti e contatti stretti. Poi, stiamo parlando di scuola, di come andare a scuola, non stiamo parlando di come la gente, di come i militari dovranno andare in guerra, ma comunque non basta un contagio per fermare l'Istituto. Lì si chiarisce che appunto, come abbiamo già detto, non basta un caso. Vanno monitorati i giorni di malattia, uno dei compiti degli istituti è monitorare le assenze. Poi sotto, a casa, se uno è costretto a casa, se la classe, una classe intera viene messa in quarantena, gli studenti devono poter continuare il loro percorso scolastico durante l'isolamento e dunque viene subito attivata la didattica a distanza. Le mascherine, ora queste benedette mascherine, sono obbligatorie in classe dai sei anni in su. Bambini e ragazzi dai sei anni dovranno usare da mascherine in classe. La protezione sarà abbassata mentre si fa attività in palestra, durante la mensa, mentre si è a mensa e durante l'interrogazione. Ma il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, dice che va usata negli altri casi, ne saranno distribuite 11 milioni al giorno. Ora, rispetto a quello che ci avevano detto ieri, sempre attraverso il giornale, quindi a questo punto si rimette in discussione il fatto che quando non si è in palestra, in mensa o non si è interrogati, quindi quando si è nel banco seduti bisognerebbe tenere, stando a quello che si capisce qua, con la mascherina. Ieri invece non era così, ieri c'era scritto che si poteva abbassare quando uno era ormai seduto al proprio posto. E va bene, vedremo comunque come andrà. Test sierologici volontari e gratuiti su tutto il personale, dal 24 di agosto via i test sierologici volontari e gratuiti sul personale scolastico, lo screening andrà avanti fino a sette giorni all'inizio delle elezioni. Poi i banchi, come saranno? Monoposto la distribuzione fino al 31 di ottobre. Dei primi banchi monoposto, due milioni di pezzi, più di 800 mila sedute innovative, agli istituti che ne hanno fatto richieste, inizierà dall'8 settembre fino al 31 ottobre. Sanzioni per le imprese in ritardo sui tempi. Allora, andiamo avanti con le altre notizie, sempre sul fronte Covid. Stabilimenti nemmeno stanzionati, parliamo di quelli di Pesaro, in due in particolare, solo due verbali compilati in ritardo. Ricci ringrazia il comandante ma non cambia idea, il caos di Ferragosto è stato un fatto gravissimo. Intanto il sindacato di polizia attacca il sindaco Ricci e dice le responsabilità sono soltanto politiche. Intanto Galdenzi, l'ex comandante della polizia di Pesaro, in una lettera saluta la città. La mia gratitudine a tutto il personale della polizia locale. La pagina di Fano invece questa mattina apre con una intervista di Giorgio Guidelli al generale Angioni, che era a capo dei militari che erano appunto in Libano. È un bell'articolo, io me lo sono letto tutto, bello nel senso scritto molto bene, che colpisce e che ci riporta alla mente un fatto dolorosissimo, quello della morte di Filippo Montesi. Il comandante appunto, tra le altre cose, dice non riesco a dimenticare la mamma di Filippo che salutiamo. In una circostanza ci parlai, l'abbracciai e ora le dico che l'ammiro. Perché è una mamma e perché nella sua vita è stata sfortunata. Mi auguro che sia in condizioni buone e le mando un saluto e un fortissimo abbraccio. E lo facciamo noi in questo momento attraverso il giornale, attraverso la televisione. In quelle spalle, continuo ancora, in quelle spalle che hanno sopportato l'insopportabile, l'insopportabile tragedia. Che Angioni ricorda scandendo anche ogni singola parola. Da Roma, dice, eravamo riusciti ad avere un tendone da circo dove i nostri ragazzi si potevano ritrovare per momenti conviviali. L'obiettivo era dublice, quello di tenere sul morale e regalargli qualche momento di spensieratezza. Ma quello era anche l'unico modo per riunirsi e non farsi osservare dall'esterno. La capienza, racconta ancora il generale, era notevole. La capienza di questo tendone da circo che era stato montato lì, appunto, in città. Ma ospitava circa i due terzi del contingente, oltre ad attori e personaggi celebri che venivano in Libano per intrattenere i militari. Una sera, mentre c'era lo spettacolo di Walter Chiari, abbiamo sentito delle raffiche di Mitra. C'è stata concitazione, sgomento, siamo andati a vedere. Quella fu la sera dell'attentato a Filippo Montesi. Andiamo ancora avanti con la rassegna stampa. Passaggi Festival, un mare di proposte. Il direttore Giovanni Belfiori dice alla sorpresa di questa edizione, senza dubbio la partecipazione del regista americano Oliver Stone. E poi di tanti altri nomi. Sono sempre stati al centro dell'evento. I bambini, ci saranno laboratori per loro e anche incontri. Da Fano, il Corriere Spazzi, numero alunni e trasporti scolastici. La soluzione nelle turnazioni casa e scuola. Il caso particolare del Carducci, inagibile, degli studenti del Nolfi. Il Preside Giombi dice due. Le ipotesi che abbiamo sul piatto. E ancora, Bertini, cambiamo il nome della piazza, proposta del Priore della Confraternita di Santa Maria del Suffragio. Riconoscimento alla Conte Borgogelli. Torna il programma degli incontri dal 24 al 31 agosto con i segreti del suffragio. Ma la richiesta, o meglio, la proposta di Carlino Bertini, Priore della Confraternita, è quella di cambiare il nome alla piazza davanti alla Chiesa del Suffragio. Ovvero, da piazza Cleofilo a piazza Piercarlo Borgogelli. Sarebbe un riconoscimento al Conte Borgogelli che durante la Seconda Guerra Mondiale, insieme all'allora Vescovo del Vincenzo del Signore, salvò gran parte del patrimonio storico-culturale, cittadino compreso il sipario dei grandi, tuttora nel Teatro della Fortuna. E poi sotto Carloni, che avvia la sua campagna elettorale, opportunità storica. Vi ricordate quando sul Carlino scrissero la proposta del Vice Sindaco Stefano Marcheggiani di piantare nei 52 mila metri quadrati all'ex zuccherificio una foresta, di creare una foresta? Ebbene, oggi interviene Edoardo Carboni, consigliere comunale di Noi Giovani, che raccoglie la proposta dell'ex Vice Sindaco, condivide la foresta urbana, ma dice, e ritengo, che alla città non basti, dobbiamo impegnarci per portare in quell'area, attenzione, un'azienda strategica come Leonardo, leader nei settori aereo-spaziali, difesa e sicurezza. Beh, insomma, messa così è un po' spiazzante. In mezzo agli alberi anche un'azienda come questa, che tra l'altro fattura 14 miliardi di euro, dà un sacco di lavoro, è da capire. Giudizio sospeso, verrebbe da dire, ma sicuramente interessante. Contributi per sostenere gli affitti, benefit per un centinaio di fanesi, il Comune ha pubblicato anche il bando per i risarcimento della mareggiata di novembre scorso, e poi Morbidelli, per il quale nascerà un altro museo di moto, trattativa sbloccata, l'Automobile Club Storico Italiano le ha acquistate dall'omonima famiglia, e si tratta di circa 70 esemplari. Mentre da Urbino niente festa dell'unità, ma un partito democratico, un PD Tour, le iniziative nei borghi e nelle frazioni, tra i big ci saranno Morani, Bonaccorsi, Ascani e Sereni, si parte lunedì, si va avanti per circa un mese. E sotto arrivano la Ministra Bonetti e Lucia Nibali, l'incontro a sostegno di Federico Talè, voluto da Viva Urbino. Le regionali si vota nelle scuole, non c'è alternativa, Gambini, Lanci si è messa di traverso, ma io cercavo altri luoghi, come suggerito da Ceriscioli, ma evidentemente c'è poco da fare. Poi la gente è abituata ad andare lì a votare, se non trova le sedi, se la trova chiusa, la scuola va in paranoia, e poi magari evita il voto e sapete di andare a votare. E quindi in questo momento, quando si parla di voti, per carità non si tocchi nulla, lasciamo così. Gestione della residenza protetta, Fossombrone, serie di errori e contraddizioni, la minoranza ricostruisce le fasi dell'accordo, Chiara Billi dice, ma Bonci è smemorato. Guardia Medica a Marotta, senza personale, la gente in coda sotto la canicola, sotto il sole, l'ambulatorio è chiuso, i turisti e i pazienti chiedono aiuto alla Croce Rossa Italiana, file anche al Bartolini, al Bartolini il CUP e poi non risponde. Ancora da Senigallia, Dio Oliviero, fondola Vigorina, la squadra del piccolo Cristian, il bambino che è morto a sei anni mentre era in macchina ieri con il papà, sono tutti e due morti a poche ore di distanza. Costantini aveva 82 anni, era stato un pioniere della scuola di calcio. Lo sport, Vis, sbuca Kevin Cannavò, è una macchina da gol per quanto riguarda la Vispesero, sotto il Fano aggiunge pezzi al motore, presi Zigrossi, Meli e Vigolo, rinnovato il difensore romano, preso il portiere in prestito dall'Empoli e il centroavante ventenne che era già comunque in ritiro. Repegia, non abbiamo sbagliato un nome, quindi il coach della VL è soddisfatto delle scelte fatte, siamo partiti dalle persone per costruire una squadra, ora manca solo il sistema di gioco, ma questa è opera sua, è tutta roba sua. E allora noi ci fermiamo, 7.28 perché ci seguo in diretta, tra poco la Santa Messa dalla Santa Casa di Loreto, noi ci vediamo lunedì mattina con la rassegna stampa, questa sera 7 per occhio il magazine con il meglio delle notizie, le notizie più importanti della settimana. Buona giornata e buon fine settimana a tutti.